benvenuto o benvenuta in questo sesto video dedicato al percorso di yoga nidra nella pratica di oggi andiamo a creare il nostro luogo di concentrazione che sarà un luogo che potrai andare a richiamare ogni qualvolta desideri lavorare e potenziare alcuni aspetti in te stesso o te stesso iniziamo subito la pratica trova un luogo dove poterti rilassare come sempre senza essere disturbato e predisponiti alla pratica per yoga nidra ci si prepara nella classica posizione supina liscia vasana ti ricordo che si possono sempre utilizzare supporti come cuscini o coperte per stare più comodi e rendere più agevole l'atto di lasciare andare sistemati quindi nel modo per te più confortevole possibile distanzia le braccia dal corpo e ruota i palmi verso l'alto ora separa le gambe l'una dall'altra che lascia cadere i piedi all'esterno prima di cominciare aggiusta un'ultima volta la posizione in modo da acquisire l'immobilità assoluta e rimanere presente durante l'esecuzione della pratica bene stai per cominciare yoga nidra chiudi ora gli occhi e comincia a portare l'attenzione all'interno con un bell' inspiro profondo e un bell'espiro profondo lasciando andare tutte le le programmazioni gli impegni passati e futuri per dedicarti solo a questo momento con il prossimo espiro profondo pronuncia mentalmente l'istruzione rilassa respira e lascia andare il corpo sulla superficie che ti sostiene lascia andare ogni tensione in yoga nidra ti rilassi profondamente ma allo stesso tempo lavori a livello di consapevolezza vigile quindi ora mentalmente imprimi l'intenzione verso te stesso io rimarrò sveglio ascolterò solo le istruzioni fai un altro bell' inspiro profondo e questa volta mentre inspiri senti la calma diffondersi nel tuo corpo e mentre espiri fornisci ancora mentalmente l'istruzione rilassa bene ora concentrati a livello uditivo perché acquisire sempre più consapevolezza dei sensi e davvero molto importante diventa quindi consapevole dei suoni che senti all'esterno della stanza in cui ti trovi senza focalizzarti su un suono in particolare sposta semplicemente l'attenzione da suono a suono senza senza focalizzarti utilizza il tuo senso dell'udito come se fosse un radar rimbalzando da suono a suono lentamente ora sposta l'attenzione dai suoni che provengono dall'esterno della stanza in cui ti trovi ai suoni che provengono dall'interno della stanza come prima sposta l'attenzione da suono a suono senza focalizzarti sui singoli suoni senza dare loro un nome ora invece prendi consapevolezza della stanza in cui ti trovi e anche se gli occhi chiusi visualizza con gli occhi della mente le pareti il soffitto la superficie che ti sostiene i colori predominanti dell'ambiente e riesci anche a visualizzare il tuo corpo disteso sul pavimento prendi consapevolezza del tuo corpo disteso sii ben consapevole del tuo corpo sdraiato a terra nella sua perfetta immobilità e dello spazio che il tuo corpo occupa nell'ambiente diventa ora consapevole fisicamente di ogni punto del corpo che appoggia sulla superficie respiri profondamente dal naso ed espiri sempre dal naso in modo completo naturale senza forzare questo semplice atto che è il respiro e mentalmente ripeti a te stesso sto praticando yoga nidra ora è giunto il momento di formulare mentalmente il tuo sankalpa il sankalpa è quell'intenzione che porta un cambiamento profondo dentro te stesso decidi la tua frase con molta cura perché essa come un seme germoglierà man mano che farai progressi nella tua pratica il sankalpa deve essere una frase breve, concisa e priva di negazioni per far sì che si consolidi nella tua vita sotto forma di un proposito, un'abitudine o un obiettivo gentilmente ripeti il tuo personale sankalpa mentalmente con convinzione e sentimento per tre volte ora roterai la consapevolezza nelle diverse parti del tuo corpo da un punto all'altro e con la tua consapevolezza si muove anche la tua energia la tua consapevolezza è come un puntatore laser da direzionare nelle parti del corpo che indicherò la mia guida sarà rapida affinché la tua mente possa rimanere concentrata ripeti mentalmente dopo di me la parte del corpo che nomino e contemporaneamente sposta lì tutta la tua attenzione diventa consapevole di tutto ciò che senti nella mano destra vi avverti forse il battito del cuore o forse qualche tensione muscolare senti qualche fastidio o sei consapevole di qualche sensazione generale come caldo, freddo, rilassamento o formicolio ora diventa consapevole della mano sinistra con le stesse modalità ora di entrambe le mani contemporaneamente senti entrambe le mani contemporaneamente ora porta la tua consapevolezza simultaneamente su entrambi i polsi su entrambi gli avambracci i gomiti la parte alta delle braccia le spalle le spalle porta simultaneamente la tua consapevolezza su tutta la lunghezza delle braccia di entrambe le braccia dalla punta delle dita alle spalle entrambe le braccia simultaneamente pesanti e rilassate diventi ora consapevolezza diventi ora consapevole della parte alta della schiena ora della parte centrale della schiena ora della regione lombare della schiena di tutta la tua schiena simultaneamente distesa e rilassata dei lati del torace della linea dalle ascelle ai fianchi ora diventi consapevole della parte anteriore del torace ora dell'area dell'addome del bacino diventa consapevole di tutta l'area pelvica delle anche delle cosce delle ginocchia della parte inferiore delle tue gambe delle caviglie diventa consapevole dei talloni della pianta dei piedi della parte superiore dei piedi delle dita dei tuoi piedi diventa consapevole insieme delle gambe di entrambe le tue gambe pesanti e rilassate ora simultaneamente delle gambe delle braccia e del tronco ora porta la consapevolezza al collo al mento alla mascella all'orecchio destro all'orecchio sinistro al labbro inferiore al labbro inferiore al labbro superiore diventa consapevole della linea tra le labbra diventa consapevole della narice destra della punta del naso di tutto il naso diventa consapevole della palpebra destra della palpebra sinistra dell'occhio destro dell'occhio sinistro del sopracciglio destro del sopracciglio sinistro diventa consapevole dello spazio tra le sopracciglia della fronte della parte posteriore della testa della sommità del capo di tutta la testa porta ora la tua consapevolezza in modo omogeneo in tutto il corpo diventi consapevole di tutto il tuo corpo dei contorni del tuo corpo e dello spazio che il tuo corpo occupa nell'ambiente il tuo corpo completamente pesante e rilassato ora concentrati sul tuo respiro senti il tuo respiro calmo ritmico e costante il tuo corpo si rigenera al flusso di questo respiro consapevole senti che stai inspirando il respiro si muove lungo il passaggio tra l'ombelico e la gola mentre senti che stai espirando il respiro si muove dalla gola all'ombelico senza forzare questo atto così naturale che è il tuo respiro il tuo respiro la respirazione è lenta e rilassata e con ogni espiro il tuo corpo si lascia andare sempre più rilassato io starò in silenzio qualche secondo per permetterti la concentrazione profonda sul tuo respiro e la 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 Gentilmente mantieni la consapevolezza nella pratica di yoga nidra. Bene, ora è arrivato il momento di lavorare con gli opposti. Quindi risveglia la sensazione del freddo. È un'esperienza che già conosci, devi solo farla riemergere e renderla reale. Senti freddo in tutto il corpo. Immagina di camminare in un pavimento freddo in una giornata invernale. I tuoi piedi sentono freddo, senti freddo in tutto il corpo. Fai esperienza del freddo. Risveglia ora la sensazione del calore. Calore in tutto il corpo. È una sensazione che già conosci. Devi solo farla riemergere e renderla reale. Riporta alla mente una giornata calda d'estate quando i raggi del sole si proiettano sulla tua pelle. E riporta sul tuo corpo la percezione del caldo. Fai esperienza del calore. Bene, ora la tua consapevolezza si intensifica a livello di visualizzazione e richiama alla tua mente il tuo luogo nella natura. Il lago dà la superficie calma e imperturbabile. L'erba soffice, i fiori, gli alberi e la temperatura ideale. Da qualche parte, proprio tra gli alberi, noti un sentiero e ti incammini. Un passo dopo l'altro, in sicurezza. Un piede davanti all'altro. Ti senti sicuro e sostenuto nei tuoi passi. Al termine del sentiero noti una bellissima casa in legno e nell'insieme l'immagine ti risulta estremamente confortevole e bella da vedere. Per entrare nell'abitazione ci sono tre scalini che tu decidi di salire. Uno, due e tre. Apri la porta e subito percepisci all'interno una buona energia. Profumo di incenso e una luce calda e avvolgente. Osserva il colore delle pareti, guarda a terra il pavimento e nota il materiale e il colore. Osserva ogni particolare rispetto alla struttura di questa casa. Chiudi la porta alle tue spalle e alla tua sinistra noti due armadi. Uno contiene qualunque rimedio medicinale, dai farmaci ai rimedi omeopatici, alle erbe, alle tinture e agli unguenti. L'altro invece contiene gli strumenti per aggiustare qualunque cosa. Avvicinati e prova ad aprirne uno e vedi che cosa attira la tua attenzione. Ricordati che puoi prendere ciò che vuoi. Ora ti volti per osservare il resto della casa e notti un comodissimo divano con uno schermo di fronte. Da qualche parte è collocata anche una scrivania in legno con un blocco e una penna. E' una libreria che contiene un'infinità di libri per ogni tipo di conoscenza. Prenditi il tempo di esplorare e di guardarti attorno. Questo è il tuo nuovo luogo di concentrazione. Accessibile a te e solo a te dove potrai tornare ogni volta che vorrai. Ora nota anche una veranda sul retro con delle tende bianche che svolazzano al vento e una vista meravigliosa. Qui puoi venire a rilassarti e a meditare ogni volta che desideri. Rimani qualche istante nel tuo luogo di concentrazione e compi tutte le azioni che desideri. Puoi sederti sulla scrivania e scrivere qualcosa. Oppure puoi scegliere uno tra i tanti libri, quello che attira di più la tua attenzione in questo momento. Puoi accendere lo schermo di fronte a te e vedere cosa il tuo inconscio ha deciso di proiettare. quello che preferisci. Questo è il tuo luogo di concentrazione. Bene, ora è arrivato il momento di ripetere il tuo sankalpa iniziale. Ripetilo esattamente come l'hai formulato all'inizio, mentalmente, con enfasi e sentimento, per tre volte. Riporta ora la consapevolezza al tuo corpo, tutto intero, rilassato, in shavasana. Bene, la pratica di yoga nidra è ora completa. e sta per volgere al termine. Lentamente riprendi consapevolezza del tuo corpo e dell'ambiente che ti circonda. Prendi coscienza del tuo respiro naturale e porta con te quella sensazione di quiete e di connessione con la parte più profonda di te stesso. Lentamente comincia a muovere le mani. La testa con gentilezza prima a destra e poi a sinistra. Rimani ancora qualche istante disteso con gli occhi chiusi fino a quando ti senti pronto. Io ti ringrazio di aver praticato con me. se lo vorrai sarò con te nei prossimi video e nel frattempo ti auguro il meglio per la tua esperienza. Namastè Grazie a tutti. Grazie a tutti.